Fabrizio Di Paola non si aspettava certo il commento piccato di Antonio Mangia alla notizia del conferimento della cittadinanza onoraria a Sir Roccoforte e oggi in una nota il sindaco di Sciacca si dice dispiaciuto per quella che definisce l'inattesa reazione del presidente di Aeroviaggi annunciando che intende chiarirsi direttamente con l'interessato. Di Paola ringrazia pubblicamente Antonio Mangia per quello che questi ha fatto e per quello che continua a fare per Sciacca nel settore del turismo e dunque per lo sviluppo del territorio e l'occupazione. Poi però il primo cittadino ricorda che il turismo è una ricchezza così come lo sono le persone capaci e competenti e nel precisare questo Di Paola sottolinea anche che tutti riconoscono le capacità imprenditoriali e i risultati raggiunti da Mangia sia alle istituzioni sia ai cittadini. Ancora Fabrizio Di Paola ricorda che nel 2014 non a caso a Mangia fu pure attribuito proprio Sciacca al premio Ferdinandea cosa di cui il sindaco precisa di essere stato molto felice. L'Aeroviaggi dice ancora il sindaco è una società molto importante per Sciacca. Fabrizio Di Paola aggiunge poi che l'amministrazione comunale è stata anche al fianco di Aeroviaggi sostenendo alcune battaglie nei confronti di altri organismi per la risoluzione di alcuni contenziosi e il presidente questo lo sa dichiara Fabrizio Di Paola. Sindaco che fa sapere di avere appreso del risentimento di Mangia sulla stampa alcune dichiarazioni continue mi lasciano molto perplesso come quelle relative alla questione terme o a futuri investimenti sul territorio. Sulle terme, osserva ancora il sindaco, abbiamo prospettato agli imprenditori locali una seria occasione di sviluppo non chiedendo a nessuno cortesie. Un Di Paola che conclude affermando che non si sarebbe mai aspettato da un imprenditore di esperienza come il presidente Mangia un'uscita che lo stesso primo cittadino definisce così poco avveduta. Tanto più che la cittadinanza onoraria Serro Coforte, precisa Di Paola, è stata conferita non soltanto per aver costruito un albergo a Sciacca ma anche per altre ragioni illustrate con chiarezza nella determina. Fin qui il sindaco di Sciacca il quale dunque interviene nella speranza evidentemente di chiudere il caso anche se ormai la questione ha assunto le connotazioni dello scontro politico. Inevitabilmente infatti gli schieramenti si confrontano, dal centro-sinistra il capogruppo di Sciacca Democratica Filippo Bellanca definisce comprensibile la delusione di Antonio Mangia, sottolineando che anche gli stessi lavoratori di Sciacca Mare ci sarebbero rimasti male, evidenziando che non ci sarebbe stata migliore occasione, conferendo la cittadinanza onoraria sia a Forte sia a Mangia nella stessa serata, di dare all'esterno la migliore immagine della promozione turistica della città di Sciacca. La pensa allo stesso modo il capogruppo del Partito Democratico Gioecchino Sette Casi sarebbe stato più opportuno organizzare una giornata in onore dei due più importanti imprenditori del turismo che operano a Sciacca, dice. Probabilmente, conclude il consigliere di SEL Paolo Mandracchia, che per prima aveva sollevato dubbi sul mancato riconoscimento contestuale a Roccoforte a Mangia, si è deciso di non conferire la cittadinanza onoraria al presidente di Eroviaggi perché tra il comune e la sua società è in atto un contenzioso. Diverso, naturalmente, il tono dei commenti da parte del centro-destra, anche il capogruppo dell'NCD, Salvatore Alonge, si dice sorpreso dalla dichiarazione di Antonio Mangia. Tutti noi, osserva, riconosciamo il valore del suo ruolo nell'economia cittadina, ma questa polemica da parte sua era evitabile. Alonge, che poi trova quantomeno inopportune le speculazioni politiche perfino nel conferimento di una cittadinanza onoraria. Il capogruppo di Forza Italia, Vittorio Di Natale, spiega che sicuramente l'idea di conferire una cittadinanza anche a Mangia si sarebbe potuta mettere in pratica, ma le medaglie, dice Di Natale, non si chiedono, si ottengono.